amiche e amici di roma giallorossa punto it e ben ritrovati da parte di marco violi allora roma vites 1 a 1 ma quanta quanta fatica veramente perché tammy ebram al ventunesimo gol stagionale ci salva ci salva veramente dai supplementari da un'agonia incredibile perché andare ai supplementari ieri sera contro il b test sarebbe stato veramente dispendioso dal punto di vista delle energie sarebbe stato deleterio per la squadra in vista del derby invece tammy ebram con una bella azione corale tra l'altro partita da sharawi poi appunto con il cross basso a mezza altezza anzi di karlsdorp e il colpo di destra di ebram a finalizzare l'azione ha permesso alla roma di pareggiare proprio il novantesimo c'è qualcosa di buono voglio trovare qualcosa di buono in tutto questo voglio trovare che questa squadra non muore mai questa squadra lotta fino all'ultimo minuto anche nei minuti di recupero ancora una volta la roma trova il gol nel finale di partita qui una dimostrazione che la squadra comunque dal punto di vista fisico almeno alcuni elementi cerca di è in forma o comunque non è sottotono però ci sono altri elementi alla rosa che veramente sono inguardabili inguardabili e dir poco l'atteggiamento complessivo della roma nel primo tempo è stato veramente disastroso nel senso che la roma ha provato a controllare la partita e ha fatto il gioco del b test perché il b test si lo sapevano tutti avrebbe incrementato l'azione offensiva e la manovra offensiva nel secondo tempo quindi poi è arrivato questo gol da parte di vittek bellissimo tra l'altro che ha sorpreso lui patrisio incolpevole nella circostanza non mi sento di dare responsabilità al portiere portoghese e la roma poi ha dovuto rincorrere praticamente la roma ha giocato mezz'ora della partita perché il gol è arrivato a sessantaduesimo e ha giocato l'ultima mezz'ora alla rembaggio e a una porta sola è vero anche il b test durante questi 30 minuti e passa ha avuto qualche occasione per chiudere la partita però poca roba perché gorbic non ha saputo sfruttare le azioni di contropiede della squadra di lecce detto questo la roma ha provato confusionariamente a cercare la via del gol non c'è riuscita ma ripeto se la prestazione complessiva della squadra in metral niles nel primo tempo e in vigna e anche in veritù è stata veramente disastrosa ma soprattutto metral niles io non riesco a capire come murigno abbia potuto accettare una situazione del genere cioè gli serviva un vice carsdorp arriva metral niles dalla premier league eccetera ed è un giocatore assolutamente anonimo anonimo quindi c'è ha fatto degli errori in fase difensiva e in fase di impostazione veramente da direttante mi verrebbe da dire cioè sono due vigna in questo momento e mentre nines sono degli esterni inutili veritù continua nel suo momento negativo continua nel suo momento negativo nel suo cono d'ombra praticamente perché è in suo vortice perché non riesce mai a incidere come incideva magari all'inizio stagione con gli inserimenti e anche con la proposizione di gioco vedo un veritù molto stanco affaticato fuori forma che non ha il passo veritù bisognerà fare un discorso molto approfondito nel corso magari proprio come dire del mercato del mercato estivo perché un veritù così è completamente inutile gli altri pellegrini pellegrini mi ha deluso moltissimo non ha mai fatto un passaggio decisivo ha tirato qualche volta in porta ma non è stato mai veramente incisivo e ha sbagliato molti passaggi se gioca male mkhitaryan gioca male tutta la roma mkhitaryan forse è l'unico che salva al centro campo perché comunque si è dannato l'anima poi li facevano falli su falli quindi però mkhitaryan è l'unico che salva al centro campo anche se la sua prestazione non è stata altisonante come le altre e poi c'è zagnolo che comunque sta diventando un piccolo caso perché zagnolo non riesce più a essere incisivo come lo era prima dell'infortunio o anche fino a qualche tempo fa prendendo esempio la partita col genoa zagnolo aveva fatto un gol stupendo e annullato poi come sapete tutti d'abisso però poi aveva fatto da lì in poi praticamente è scomparso aveva fatto sì una bella prestazione a empoli con gol eccetera ma poi è scomparso dai radar completamente e anche ieri zagnolo ha comunque steccato la partita col bites ora ci aspetta il derby ci aspetta il derby una partita che sfuggia ogni pronostico di solito la squadra che ci arriva peggio come dire alla meglio sull'avversario speriamo che anche in questo caso sia così non dico niente non mi esprimo però se si gioca il derby in questa maniera con questo atteggiamento non vedo possibilità di vittoria l'unico modo di giocare il derby di vincerlo è di fare una fase difensiva attenta di non prendere gol e cercare nell'ulti negli ultimi 20 minuti di magari incrementare le azioni offensive e di sbilanciarsi un pochino perché anche per una zero questo derby si può vincere l'altro la roma non so quanti under 2,5 sta collezionando perché veramente sono tanti i risultati per 1 a 1 0 a 1 eccetera quindi non può essere più un caso la roma produce poco segna il giusto per quanto produce e quindi questo lo dovremmo sfruttare al massimo nel derby bene io vi ringrazio vi saluto appuntamento chiaramente con la radiocronaca del derby domenica alle ore 17 45 su romagello rossa punto it e sul nostro canale youtube romagello rossa tv un saluto a tutti e sempre forza roma